Chi lo vedeva andare su e giù per il lungomare della Sassonia con una pistola che faceva capolino dalla tasca posteriore dei pantaloni si è spaventato e non poco, tanto da chiamare subito il 113. Per questo un giovane trentenne fanese è stato denunciato in stato di libertà per procurato allarme dalla polizia di stato. La pistola è poi essere risultato un'arma giocatolo alla quale il giovane aveva asportato il tappino rosso obbligatorio, rendendola così molto simile a un'arma vera. Ma i controlli sul territorio si sono estesi anche sul fronte del contrasto allo spaccio e dal consumo della droga, soprattutto tra le fasce più giovani della società. Gli agenti delle volanti del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, hanno effettuato ispezioni soprattutto nella zona mare e nei dintorni di vari istituti scolastici e verifiche presso vari esercizi pubblici e parchi cittadini anche con l'ausilio di unità cinofile. Nella zona mare sono stati controllati numerosi gruppi di giovani, molti dei quali minorenni. Durante i servizi un quindicenne ed un diciottenne sono stati trovati in possesso di alcune dosi di marijuana, mentre un quattordicenne è stato sorpreso dagli agenti, non molto distante dal gruppo controllato, con circa 15 grammi della stessa sostanza, oltre a materiale per tranciare e preparare le dosi. Inoltre nel corso della perquisizione effettuata nella sua casa sono stati rinvenuti ulteriori 5 grammi sempre di marijuana. Di conseguenza il quattordicenne è stato denunciato in stato di libertà l'autorità giudiziaria minorile di Ancona per detenzione ai fini di spaccio, mentre gli altri due giovani, ovvero il quindicenne e il diciottenne, sono stati segnalati alla locale prefettura come consumatori abituali di stupefacenti. Sempre nel corso delle attività di contrasto alla droga, questa volta nei pressi di scuole medie del centro storico, un richiedente asilo di origine irachena è stato sorpreso in possesso di alcune dosi di hashish. L'uomo è stato anche egli segnalato alla prefettura di Pesaro, mentre un giovane rumeno, sorpreso in area pubblica in evidente stato di ebrezza, è stato multato per ubriachezza molesta.